Salve a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Max Noreg e sono stato un accanito fumatore. Attualmente da più di 7 anni sono un felicissimo non fumatore e non ho più ricominciato. Partiamo dal titolo di questo video, senza fumare si sta meglio. Dopodiché ho precisato, salute e piacere sono la stessa cosa. Perché ho fatto questa precisazione? Perché io mi immedesimo nel fumatore e so come reagisce di fronte a una frase del genere. Quando dici senza fumare si sta meglio, lui pensa subito alla salute. Alla salute contrapposta al suo piacere. Quindi può avere due reazioni diverse. O esagerando una reazione del tipo Sì, 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 no, sì, sì, si sta meglio, sì, certo, sì, per la salute è utile, poi si vive di più, fammi fumare. Insomma, lo vedi che è un po' confuso. Prova a fare una domanda del genere o a porre questa questione a un fumatore. Ora, altra reazione che può avere è decisamente una reazione di rabbia. Tipo, oh, senti, non mi rompere le palle, c'è solo questo piacere qui che mi tiene compagnia sempre. Lo so che fa male, però non c'è solo la salute, bisogna anche godersi la vita. Reazione di rabbia. Ora, il fumatore ha ragione o no a comportarsi così? Secondo me ha proprio ragione, cioè non è lui che è sbagliato. È sbagliata la società che è intorno. Per farti capire, partiamo da una constatazione fondamentale. La salute è piacere. Per piacere intendo proprio piacere fisico. Pensa al sesso. Cosa c'è di più godurioso? Dai, ti piacerebbe realizzare tutti i tuoi sogni erotici mentre sei steso nel tuo letto da solo, avere di fronte tutte le donne che vuoi e che ti fanno tutto quello che vuoi. Non sarebbe spiacevole, no? Eppure dopo un'attività sessuale te non stai male. La tua salute non è peggiorata, anzi, fa bene, rilassa il rumore, fa decisamente bene alla salute, oltre a essere piacevole. E in natura è così. Il piacere non è scollegato dalla salute. Non esiste una salute fatta di sofferenza. Perché la salute è psicofisica. Se a te piace fumare e senza fumare subisci una grossa riduncia, è meglio che fumi. Perché ti fa molto più male la privazione del vizio in sé. Ora, da cosa nasce questo fatto che la salute è vista come opposta al piacere? Nasce da due strutture che ci sono nella nostra educazione. No, nasce da una struttura che c'è nella nostra educazione e da un fenomeno, diciamo, più naturale, però collegato anche con la nostra civiltà. Chiariamo subito quali sono i due fattori. Il primo è che quando ti viene insegnato da questa nostra educazione moralista, nel senso del termine, e che tende a far sentire l'individuo in colpa, ti viene insegnato un concetto di salute, che non è la tua salute, che, ripeto, è benessere psicofisico, quindi è gioia, è goduria, questa è la salute, è correlata strettamente a queste sensazioni. Ma la salute che intendono loro, questi educatori, chiamiamoli così genericamente, è una salute che ha come scopo quello di fare di te una macchina efficiente per la guerra e per il lavoro. È questo che intendono per salute. Per questo quando ti dicono, vogliono convincerti a smettere di fumare, non è che ti dicono, ma dai, ti puoi liberare dalla nicotina, non ne hai bisogno, quando smetti di fumare poi stai sempre meglio, sei più felice. No, ti colpevolizzano, ti dicono, ti spaventano, il fumo ti ucciderà, guarda i polmoni del fumatore, qui sul pacchetto di sigarette, tutti i cancri. Oppure ti colpevolizzano, appunto, oltre a terrorizzarti. Il fumo avvelena anche te. Chi fuma avvelena anche te, digli di smettere. Donna incinta, fumi, stronza, stai avveledando il tuo bambino, vergognati. Al che io fosse un fumatore mi incazzerei e parecchio. E dovreste anche un po' farvi sentire, perché, o bimbi miei, non è uno sbuffo di fumo o anche uno sbuffo di canna che ti rovina la salute, eh? La salute te la rovini tutti i giorni facendo questa vita innaturale nelle città, stanno chiusi in un ufficio, fumando l'inquinamento, mangiando roba cancerogene, tante tante altre cose, stressandoti. E' questo che rovina la salute, altro che la sigarettina. Mi stai a dire che quello che rovina un bambino è che la mamma si fumi una sigaretta in gravidanza. A me i bambini lo rovinano tante altre cose, un'educazione di merda, scusate il termine, e la mancanza di amore e presenza da parte dei genitori, per dirne due. Comunque, passiamo al secondo fattore, che origina questo piacere contrapposto alla salute. Sono le sostanze che hanno un effetto psicoattivo, o comunque un effetto bastardo, nel senso che la droga ti entra in circolo, ti modifica le sensazioni e poi ne hai bisogno. E però ti danneggia il fisico. Oppure anche certi cibi, perché noi naturalmente non avremo problemi né di obesità né di carie dentarie, per esempio. Perché siamo sempre dal dentista e dal dietologo? Perché nei cibi sono state introdotte delle sofisticazioni, degli agenti chimici. Lo zucchero, i dolcificanti. Ora non mi intendo di questo settore, però so che ci sono e hanno un'azione forte. E ora c'è una certa regolamentazione, ma negli anni 70-80 mi immagino cosa non facessero nei cibi venduti in pacchetto. perché il problema è questo, un'industria ha un alimento che ha una... come alimento in sé vale magari poco, dal punto di vista nutrizionale. Ci aggiunge dei tipi chimici in modo da fartelo sembrare buono, sballandoti il gusto, e chi si è visto si è visto, e ci si trova ad avere una fisiologia totalmente sballata, che poi ti porta alla malattia, all'obesità, problemi di digestione, di evacuazione, e chi più ne ha più ne mette, a bruciore di stomaco, carie nei denti. Così stanno le cose, ma naturalmente, diciamo per un buon 90% almeno, il piacere, la salute è piacere, la salute è godura, le due cose non sono separate. Quindi prendi atto di questa cosa, e il passo numero uno che devi fare è proprio questo. Prendi atto di questa cosa, del fatto che te fumando non fai del male a nessuno, è un tuo diritto, e se stai meglio fumando, che dovendoci rinunciare, goliti le tue sigarette, e mandali tutti a quel paese. Questo è il primo passo, è acquistare un po' di serenità. Il fatto però, è che questo piacere della sigaretta, in verità non è un vero piacere, si tratta di una dipendenza. Cosa intendo di, no, non ti voglio toccare la tua sigaretta, fammi spiegare. Questo lo scoprì anche Allen Carr, sono d'accordissimo con lui, nel suo famoso libro, è facile smettere di fumare, se sai come farlo. Perché a me per esempio piace un bombolone, un bel bombolone caldo, fritto, con lo zucchero, magari la cioccolata dentro, che già in sé è qualcosa di sofisticato, con la cioccolata è psicoattiva, però non importa, è buono, uno se lo mangia. Però non è che per questo devo andare in giro con 20 bomboloni attaccati, con una collana qui intorno, e ogni ora me ne devo mangiare uno, se no sto male. Questa è la dipendenza, differenza tra piacere e dipendenza. Posso anche stare un anno senza mangiare bomboloni, mi dispiace ma non muoio. Quando si instaura una dipendenza, non ha più senso mandarla avanti, perché uno fuma, perché ha fumato la sigaretta prima, l'escesa della nicotina, ne vuole un'altra. Non sono d'accordo con lui sul fatto che le droghe non danno mai niente, fin dall'inizio è solo un'illusione, perché qualcosa fanno, le prime volte. C'hanno un'azione. Certo, se ne può fare a meno, è perché la droga è molto mitizzata, proprio anche per il proibizionismo, il senso di colpa, eccetera. Ma l'effetto che si prova con una droga, si provano cose molto migliori, baciando una bella ragazza, giocando per la prima volta a Tomb Raider, mi ricordo che emozione, quando uscì per PlayStation 1, facendosi coraggio, divertendosi in modo spontaneo. Certo, tutte queste cose non sempre facili raggiungere, mentre la sensazione data da una droga ti può aiutare, tipo lo sfordimento dell'alcol. Però fatto sta che se ci fosse una sostanza in grado di darti un vero e genuino piacere, la prenderebbero tutti. È solo un'illusione da troncare il prima possibile. Come si fa, mi dirai te, a me piace fumare, l'idea di non fumare mi mette tristezza. E qui andiamo su un terreno un po' complesso. D'altronde, se fosse semplice lo saprebbero già tutti, no? E che è questo. Dov'è il difetto principale del nostro cervello? Che noi abbiamo il terrore di non avere il controllo mentale della realtà per poterla gestire e quindi tendiamo a rifiutare a livello mentale ciò che non riusciamo a spiegare. Anche se questa cosa effettivamente esiste. e pensaci un attimo. Rifiutare non accettare una realtà anche se questa realtà è andato di fatto perché non riusciamo a capirla, a spiegarcela. E questo ci mette in uno stato di agitazione. Per esempio, se io ti dico lascia parlare di me, ti fumi, no? Durante un pranzo esci a farti la sigaretta o durante l'orario di lavoro. Ecco, serve i tuoi colleghi che vengono a fare la pausa con te ma non fumano o quelli che restano dentro. Ti sembra che siano più felici di te o più infelici? Io ti assicuro che ero un fumatore come te accanito e convinto e che pensavo che smettere di fumare sarebbe stata una tragedia perché tutta la vita sarei stato infelice. Ti assicuro che non me ne frega niente delle sigarette. Sono felice così, non ne sento la mancanza. Io non è che sono in un'astinenza da sette anni. Io sono libero da sette anni. Sono cambiato io nel mio corpo e questo che devi capire. Tu non capisci come uno possa essere felice senza fumare? Come tu stesso potrai essere felice senza fumare? Perché cerchi di vedere la realtà sua con gli occhi tuoi. Cerchi di vedere la realtà tua del te stesso come sarà tra due mesi con quello che provi ora ma il tuo stesso che avrà smesso di fumare sarà diverso da come sei te ora avrà sensazioni completamente diverse bisogni diversi e questo è il punto difficile da capire. E perché è necessario capirlo? Anzi non capirlo è necessario prenderne atto. Non si tratta di un processo di ragionamento ma un processo di osservazione. il consiglio che do sempre è meno ragionamento più osservazione. Il ragionamento la logica deduttiva è veramente sopravvalutata. Non riesce a spiegare tutto. L'osservazione è più importante perché hai la realtà lì il dato di fatto non c'è bisogno di arrivarci con la mente facendo una serie di passaggi logici. Quindi meno elaborazione più input in termini informatici. perché è essenziale prendere atto di questo fatto accettarlo? Dire sì chi non fuma sta meglio di me e se io non fumassi e non avessi più la dipendenza della nicotina sarei più sereno più felice non mi mancherebbe la sigaretta. È necessario fare questa presa di consapevolezza accettare questo fatto perché accettandolo il tuo cervello comincia piano piano nei giorni nei mesi negli anni o nei suoi tempi a riprogrammare se stesso alla luce di questa osservazione e questo è quello che Alan Carr chiamava il superare diciamo la dipendenza psicologica che è il 90% perché te fumando hai instaurato una serie di micromeccanismi di modi di vedere la realtà di collegamenti quello più banale dopo mangiato fumo e questi collegamenti li rompi li puoi rompere mentre stai ancora fumando comincia a vedere la segreta per quello che è a prendere atto del fatto accettarlo che non fumando si sta meglio il tuo corpo la tua mente farà tutto da solo nel corso del tempo e arriverà a un certo punto che smettere di fumare sarà molto molto più facile perché rimarrà solo la dipendenza fisica e alla dipendenza fisica stai un giorno un po' stranito ti svegli di notte devi fare una lunga passeggiata perché ti senti un po' perso poi però ogni giorno va sempre meglio dopo due o tre settimane massimo un mese sei fuori guarda mi fermo qui perché non voglio ho affrontato un argomento molto complesso nella seconda parte però riflettici fammi sapere nei commenti cosa ne pensi non stare troppo ad alambiccarti a fare ragionamenti di quello che senti così intuitivamente e magari ci tornerò sopra per semplificare i punti più oscuri beh spero di aver dato il mio piccolo contributo a questo problema della dipendenza da nicotina seguendo un approccio medico dove io per medicina intendo una cosa molto semplice la scienza che cura il paziente non che lo terrorizza e non che lo colpevolizza ok ciao e alla prossima ciao